Purtroppo voi sentirete questo video tardi perché ho raggiunto il limite di caricamento ma Francesco Totti e Larry Blasi si sono separati, è qualcosa di storico che io avevo già anticipato ovviamente il buon Francesco smentiva ma ovviamente le corna non si possono nascondere sotto le lenzuole era chiaro, era ovvio, la crisi durava da anni si sono cornificati a vicenda e poi dopo alla fine abbiamo trovato anche le amanti noi giornalisti di inchiesta e rispettiva amanti maschili e amanti femminili per i due rispettivi pizzoncini, quindi non c'era poco da nascondere, lo sapeva tutta Roma non si poteva dire perché era un po' una coppia speciale Mario Draghi è salito al Quirinale e cade il governo cioè quando una rappresentanza polistica esce dall'aula durante un voto importante il DDL aiuti esce dall'aula e non mette il voto, è una forza di governo è già una stiducia al governo, adesso starà Mario Draghi decidere se fare un governo senza M5S o andare a casa, è meglio che vada a casa anche perché non ha dato una grande prova di sé insomma ci aspettavamo molto di più da un uomo così carismatico un uomo che doveva essere il nuovo De Gasperi il nuovo De Gasperi, cioè doveva essere veramente, al città De Gasperi fece gli accordi salvò Trieste dopo la seconda guerra mondiale che ci hanno spianato con i bombardamenti, ci hanno umiliato quello che vogliono poi fare adesso, farci perdere un'altra guerra oppure farne, sì esatto, farne scoppiare un'altra ci avevano umiliato, De Gasperi vedeva, aspetta, noi siamo l'Italia qualcosa ci dovete dare, insomma non è che siamo nel Mediterraneo abbiamo un ruolo strategico importante poi ci hanno anche umiliato Roppiano Marshall per poi invaderci di basi ma questa è un'altra storia quindi niente, è stato un disastro questo Draghi io non so quello di Asia, credibilità internazionale vuole fare il segretario generale dell'ONU il problema è che ha trascinato il paese in una guerra inutile ok, una guerra inutile ha ragione il Papa che ha dato sempre una dimostrazione di pacifismo vero ok, che bisogna sempre avere in mente la pace non parlare per slogan, parlare di alleanze che non esistono da 50 anni queste alleanze sono state sempre causa di guerra e morte questi famosi alleati hanno sempre solo ammazzato, ucciso, invaso territori violato la territorialità, i confini di altri stati Iraq, Afghane, Tenezia quindi insomma per dare dei giudizi bisogna pensarci mille volte il carico Draghi torna in Umbria a fare e poi si andrà a elezioni, se andrà il voto io non voterò, vinceranno le destre tocchiamoci, però almeno è la democrazia bellezza cosa si vuoi fare? io non voto, vinceranno a Meloni e compagnia bella quelli che vinceranno, vinceranno